ma io preferirei commentare insomma la partita poi quello che è successo quello che è successo insomma le proteste le polemiche le lascio giudicare a voi io quello che giudico è la prestazione della squadra che è stata buona all'inizio poi ci siamo un po disuniti in mezzo al campo abbiamo preso due gol evitabilissimi poi abbiamo reagito bene devo dire che anche in ferita numerica abbiamo fatto una grande partita ragazzi impegnati tanto hanno messo tutto quello che potevano però il campo è grande quando stai in ferita numerica è difficile coprirlo insomma quindi posso essere soddisfatto a tratti della prestazione però noi siamo sempre fiduciosi nelle nostre possibilità e cercheremo di riprenderci già la prossima ma noi cerchiamo comunque di fare la nostra partita in qualsiasi campo si vada a giocare è normale che quest'anno abbiamo anche diciamo più qualità dal punto di vista tecnico cerchiamo di sfruttarle no con gamboni con restivo quando c'è con chi ha qualità tecniche superiore agli altri e oggi ripeto è stato un po un po particolare perché lo giocano in un modo proprio completamente diverso da tutti gli altri mettono questi tre davanti molto molto forti fisicamente fanno questi lanci lunghi noi siamo stati ripeto un po disuniti in mezzo al campo perché gamboni è inutile tutti lo conoscono però è la prima volta che veniva a giocare con noi poi meccanismi in mezzo al campo ogni tanto andavano andavano un po andavano un po via quindi non abbiamo difeso diciamo bene quella palla però nonostante tutto ce la siamo giocata ecco poi un po troppo nervosismo un po due espulsioni nostre che noi siamo sempre una squadra molto corretta comunque alla fine prendere di espulsioni un campo del genere penso sia un po esagerato io quello che posso dire obiettivamente no ma questa è una cosa facilmente facilmente capibile insomma da tutti quelli che vogliono il bene di questa lega no se poi in campo non si pensa a giocare ecco diciamola così questi ragazzi non verranno non verranno più perché loro vengono qui per giocare non fa polemica o per fare comunque ci hanno tutti quanti poi andiamo al lavoro il giorno dopo abbiamo delle attività non è che uno può venire qui e si può mettere a rischio la propria incolumità al di là di chi è non sto parlando solo di loro però è difficile farli venire quando poi succedono diciamo questi questi queste parentesi polemiche dai in bocca al lupo alla prossima